E' da un po' che non faccio l'angolo della risata, meglio che vada subito. Il mio pubblico sicuramente sta fremendo per le mie barzellette. Salve a tutti e benvenuti all'angolo della risata, l'unica pubblica che porta qui su YouTube barzellette di altissimo livello, nuovi ospiti, nuovi ospiti come potete vedere, e quindi vi ricordo che se volete essere aggiunti, basta che mi scrivete il vostro nick e io vi sistimerò tra pubblico, tra questo fantastico e calorosissimo pubblico che mi ama, alla follia, che non potrebbe vivere senza le mie battute, vero? Vero? Siete davvero follemente innamorati di me. Ok, iniziamo subito con la prima barzelletta della giornata che sta finendo, sta per calare la notte, quindi iniziamo subito. Qual è il colmo per un viaggiatore alla stazione? Perde il treno per essere andato a prendere al barro un caffè espresso. Passiamo alla seconda barzelletta della giornata. Due uomini prendono il treno per la prima volta, poco dopo il primo chiede al secondo. Che cos'è questo tun 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 che si sente in continuazione? Non avremo mica forato? E il secondo si affaccia a guardare e risponde spaventato. Forato? Non ci sono neanche più le gomme! Passiamo all'ultima barzelletta della giornata. Ma le stelle la mattina fanno colazione nella Via Lattea? Grazie a tutti per avermi seguito in questo nuovo video, vi ricordo che se volete essere giunti tra il pubblico basta che mi scrivate un commento qui sotto al video con il vostro nick e io vi sistemerò subito seduta stante. Capito? Seduta perché state seduti anche se state in piedi, però stante. Passiamo all'ultima... No, scherziamo, sono finite le barzellette. Quindi io vi do appuntamento al prossimo episodio dell'Angolo della Risata e quindi vi saluto. Ciao a tutti!